ok questa è la macchina l'interruttore dell'accensione è qui dietro sotto la spina oltre all'accensione della corrente bisogna sincerarsi che ci sia l'aria questo è l'interruttore dell'aria quando c'è questo rumore vuol dire che sta entrando l'aria a quel punto dopo che avrete scaricato l'app sul vostro cellulare fate la connessione alla macchina si preme qui rintraccia subito la macchina si collega e è collegato alla macchina a quel punto voi avete tre possibilità di preset del numero di avvolgimenti in questo caso ne abbiamo uno che è a 7 uno che è a 20 uno che è quando voi premete inquadra qua per favore vedete che è 7 20 quindi o 30 se volete variare il numero degli avvolgimenti andate su update program e quindi avete programma 1 2 3 il primo esempio lo portiamo a 15 il secondo lo portiamo a 22 programma 2 lo portiamo a 24 eccolo qua il programma 3 lo portiamo a per esempio 60 back 22 24 perdon 22 24 60 adesso andiamo sul 60 prendiamo questo per fare il test chiaramente dovete fare attenzione di infilarlo bene prendiamo questo per fare il test chiaramente ed ecco ancora ultimo ecco fatto siamo posto ecco là ecco faccio ecco 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 ecco